Ha partecipato anche Sasha, 1, 2, 3, foto ricordo e l'applauso di Porto del Pino Fabrizio vieni sul palco, dai muoviti che devi pagare la cena, questa ti costa cara Quindi Fabrizio Petrito che sale sul palco, il presidente del gruppo ciclistico Melania che fa festa Un applauso, lo facciamo anche Fabrizio Petrito, di vero, solo un applauso Sul palco sale anche Simone Cazzoli che insieme a Gietano Cazzoli e Trano Spinozzi hanno dato informazioni durante la corsa E complimenti al team medice Fabrizio, bravo Fabrizio anche perché c'è un bel nome Fabrizio, ti chiami come me, è importante anche questo E la festa? Ragazzi va bevuto però questa storia, non va così mandato in giro Bravissimi, meravigliosi, adesso la maglia ricordiamo con Lino Secchi che ha la maglia tricolore da fare indossare ovviamente E quindi poi abbiamo anche Lino a questo punto Allora Lino Secchi invitiamo a forza avanti il presidente del comitato regionale Marche Andiamo già con la vestizione E poi ci godiamo anche Lino Nazionale ringraziando Iuri per aver sistemato tutto Come da protocollo Buttiamoci quest'inno Adesso la vestizione, facciamo un bel applauso intanto per Sirius Sistarelli Che si laurea campione italiano per quanto riguarda il fondo 2015 della Federazione Ciclistica Italiana Categoria M2 Ecco, dosso alla mano Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.